È il giornalista che va a toccare il mondo, quello che lo va a cercare, che lo vuole raccontare ma che lo vuole guardare da vicino, lo vuole guardare negli occhi, non quello che ne legge sulle agenzie o lo vede, lo osserva nelle agenzie internazionali video. È il giornalista che va, che va alla ricerca della verità, che vuole capire, che non si accontenta della soluzione quella più immediata, del racconto quello più veloce. Giovanni, è un po' questo il senso, no? Sì, prima di questo volevo anche io ringraziare Letizia perché siamo qua e sono qua per lei. Ringraziare Mirta. Scusate se anche io faccio dei ringraziamenti, ho bisogno di farli perché li sento per me importanti, per noi importanti. E quindi ringrazio Mirta per le bellissime parole che ha pronunciato e per quello che ha sentito dal messaggio di Letizia, che vuol dire che appunto è in sintonia con questo messaggio. Ringrazio Tonia per il suo affetto, ringrazio Dario per tante cose, ma per il suo affetto soprattutto, per la sua vicinanza, per il suo affetto. Ringrazio il Comune, ringrazio tutti voi, ringrazio tanti amici, il Comune di Montecatini con Alessandro che è qua, ringrazio tutti voi amici. Questo affetto, questo calore di cui ha parlato Dario simbolicamente all'inizio si sente e credo che debba essere quasi alla base ed è uno dei fondamenti con tanti altri, ma è proprio una verità, diciamo, che è una sincerità che riconosco, che sento e che quindi ci sostiene nel continuare questo percorso che ho iniziato e che abbiamo iniziato insieme con Letizia e con tutti voi. Sì, diciamo, la passione credo sia la parola chiave con cui un giornalista dovrebbe affrontare i fatti, non soltanto la passione appunto per il mestiere del giornalista, che è una bellissima parola, quindi non voglio denigrare la parola mestiere, però il mestiere del giornalista è anche qualcosa di più, forse anche un'arte, perché di fronte abbiamo i fatti, abbiamo le persone, abbiamo persone, abbiamo esistenze, vite e di fronte a queste vite come qualunque uomo possiamo essere giudicanti, possiamo essere distaccati, possiamo essere freddi, ma possiamo anche amare questa realtà che abbiamo di fronte a questi uomini e quindi un giornalista che sia sincero, che non cerchi la verità come qualcosa di precostituito, pregiudizio, ipercritico, che non sia un pubblico ministero della realtà, ma sia un conoscitore della realtà, non può che non amare quello che sta raccontando. E quindi credo che la parola fondamentale sia proprio passione non solo per il mestiere, ma per i fatti, per la realtà. E quindi Letizia quando mi raccontava le cose di cui raccontava viveva questa passione, cioè questa passione che poi fa scaturire sincerità, fa scaturire attenzione, fa scaturire attenzione al dettaglio, fa scaturire libertà di giudizio, fa scaturire approfondimento, ma senza l'interesse per il reale non c'è approfondimento, c'è soltanto un interesse intellettuale. Invece l'interesse nasce dal cuore, non nasce soltanto da una volontà di interesse intellettuale. Quindi credo che la passione sia la parola chiave che anima voi giornalisti quando siete veri, sinceri, e vi anima quindi quando ci siete. Quando invece chiaramente il giornalismo a volte è vittima non tanto di linee editoriali, perché ormai le linee editoriali credo siano un po' finite e comunque, come dire, le linee editoriali ideologiche sono purtroppo, dico purtroppo, sono un po', come dire, demodè, ma diciamo che spesso, a volte, la tendenza alla orizzontalità della notizia, intesa come quantità, come audience, come volume, diciamo così, della notizia, quando lascia il posto, quando questa cosa sopraffa, invece l'interesse, l'attenzione, la presenza del giornalista come persona, come uomo, questo riduce il ruolo del giornalismo e probabilmente porta il giornalismo a essere poi in qualche modo sopraffatto a sua volta in generale. Quindi io quello che vedo nei cuori, negli occhi e anche nella voce dei, scusate, Quello che vedo appunto nei cuori, nelle voci dei vincitori, dei candidati di queste edizioni, è questa passione, questa passione che mi ricorda completamente quella di Letizia. Quindi quando sento appunto Francesca che parla di Afghanistan, di Siria, eccetera, quando sento per esempio Andrea De Giorgio che è stato in Malin, che ha creato un conflitto importante che non conosciamo e che Letizia voleva fortemente raccontare, che poi per tanti motivi non è riuscita a raccontare, quando sento Daniele Bellocchio che ci parla appunto anche lui dei conflitti diciamo internazionali e così quando sento Claudio che parla del conflitto che c'è sul fronte diciamo anche nazionale in Calabria e così tutti gli altri. Quando sento Paolo Graldi che adesso si collega con noi, quando racconta i fatti, vive questa passione, come se fosse qualcosa di più di un mestiere, qualcosa molto di più di un mestiere. E quando stamattina ho sentito Gianni Biziak, Gianni Biziak che avrebbe voluto partecipare, Gianni Biziak si è in ospedale e non si sente bene, però è un amico carissimo di Letizia ed è proprio un simbolo per me quando ho sentito stamani per chiedergli se poteva partecipare, la passione con cui raccontava la voglia di partecipare, ecco mi ricordo a tutti voi, mi ricordo a tutti voi e Letizia in questo essere giornalista vero, sincero e diciamo così appassionato di fronte al reale, non soltanto di fronte al mestiere, ma di fronte al reale, di battezzarsi nel reale, di immergersi nel reale, no? Perché senza immergersi, senza bagnarsi, senza sporcarsi del reale, il reale è tutto, diciamo, è la nostra vita, è la nostra esistenza, sono i fatti, le persone, siamo noi stessi, non riusciamo a raccontare il reale e finiamo per giudicarlo, cosa che non è assolutamente interessante, che non porta a nessuna verità. Quindi la verità come sincerità e la passione sono, diciamo, quello che anima la nostra, come dire, la valutazione che diamo anche come premio, come associazione, quello che vogliamo sostenere nei giornalisti, nella teoria giornalista. Un altro tema importante per noi è quanto il giornalismo possa raccontare alle persone, oggi, come ieri, e possa in qualche modo trasmettere a tutti coloro che sono frastornati da un volume enorme di notizie, di strumenti, di informazione, spesso che tendono all'orizzontalità, diciamo così, e al non interesse per il reale, che possa aiutare invece a raccontare questo reale con parole ancora tradizionali, ancora sincere. E' molto importante, vi segnalo solo questa cosa e poi vi lascio solo un saluto, è importante che, diciamo, quando parliamo, per esempio, di linguaggio, no? Perché per noi il linguaggio è qualcosa che è assolutamente legato alla verità del raccontare, perché la forma non può essere distinta, diciamo, dal contenuto, in questo senso. Ecco, l'attenzione per il linguaggio deve trasferirsi e per l'approfondimento anche ai nuovi linguaggi del giornalismo. L'anno scorso abbiamo premiato, negli anni scorsi soprattutto, carta stampata, ma non solo. Quest'anno abbiamo premiato, come dirà poi Claudio, dei lavori di audio-video e di un podcast. No, è importante come la cura del linguaggio, l'attenzione, l'approfondimento, anche in un'epoca in cui cambiano i linguaggi e quindi il rischio è ancora maggiore di perdere questa attenzione per il reale, questo interesse per il reale, come invece salvaguardare in questo passaggio una tradizione, cercare di, come dire, proprio di essere attenti anche di fronte a questi rischi e ridurli, ecco, è molto importante. Quindi quest'anno, per esempio, questo premiare un podcast e un audio-video vuol dire non rinunciare a un linguaggio scritto, ma vuol dire anzi cercare di essere, fare in modo di sostenere un passaggio, diciamo, di attenzione al linguaggio, di attenzione all'approfondimento anche nel cambiamento dei linguaggi di comunicazione. È chiaro che siamo in un mondo molto difficile, come diceva Dario, è un mondo complesso, quest'anno ancora di più, è un mondo in cui non possiamo né essere ottimisti né pessimisti, però dobbiamo essere veri, sinceri, e dobbiamo, come dire, non rinunciare ad essere uomini e quindi non possiamo rinunciare di fronte a quello che sta accadendo, a quello che accadrà, a essere presenti come persone, come uomini e non essere sopraffatti dalla voglia di, come dire, di rinunciare a esserci, rinunciare a esserci col cuore e con la mente. Quindi il rischio invece di essere sopraffatti da un continuo flusso di cose da fare, di informazioni, anche nella vita quotidiana, il lavoro, i mezzi di comunicazione, appunto questo volume, diciamo, di cose che accade, riesca di sopraffarci. E quindi anche il giornalista di fronte a questo deve continuare a mantenere una propria identità di persona, e di uomo e quindi in questo senso continueremo sicuramente a sostenere questo tipo di giornalismo e questi giovani in cui io vedo proprio Letizia. Grazie Giovanni. Giovanni, tu dicevi il volume e la velocità, eppure invece nella voce, nel modo di lavorare di Letizia, nel modo di prendersi cura nel linguaggio delle persone, del mondo, c'è invece una sorta di rallentamento, no? Che attenzione, che lavora. Di fronte al fatto, che sia un piccolo fatto di cronaca locale, ossia un grande fatto internazionale, ossia un fatto di politica, dobbiamo, quello che ho sempre notato, io diciamo, quando Letizia mi ha detto che voleva fare la giornalista mi sono stupito, no? Perché Letizia ha fatto studi filosofici, filologici, io lo dico con molta sincerità, non avevo una grande, come dire, attrazione per il mondo, l'ho sempre visto il giornalismo con una specie di sport rispetto alla guerra, cioè nel senso qualcosa di debole dal punto di vista filosofico e intellettuale. Poi ho sbagliato, sbaglio, ho sbagliato precedentemente, adesso riconosco questo mio errore, perché invece il giornalismo di Letizia, come il vostro, può essere un giornalismo che affronta la realtà quasi in termini proprio conoscitivi, cioè di, come dire, di sincerità, di persone che affrontano e che raccontano questa realtà, come può fare un poeta, come può fare un artista, come può fare... Quindi voi e Letizia, quando siete giornalisti siete artisti in questo senso, e quindi l'approfondimento, diciamo, può essere di fronte a un piccolo fatto, può essere di fronte a un fatto internazionale, ma è sicuramente un essere attenti alle sfumature del reale, perché questa realtà che ci è data non è scontata, la nostra vita non è scontata, dobbiamo essere, come dire, capire che non siamo qui così in maniera scontata, no? Quindi dobbiamo essere anche, come dire, riconoscenti e quindi essere riconoscenti verso tutti, verso gli altri, verso il reale, e quindi in questo senso avete una missione. Una responsabilità. Una missione, direi. Missione e responsabilità fortissimi, vero Giovanni? Grazie.